bene bene ciao a tutti Vincent Warlike benvenuti nel mio canale siamo qua su ROM 2 Emperor Edition che ho acquistato nell'ultima settimana di marzo dove su Steam la Siga ha messo in offerta tutti i suoi titoli con dei prezzi molto bassi quindi ho acquistato tutti i DLC e tutte le espansioni ad un prezzo veramente irrisorio quindi spero che anche voi ne abbiate approfittato e abbiate acquistato i vostri giochi preferiti quindi andiamo subito sulla campagna principale a Roma come vediamo abbiamo tutte le fazioni giocabili io voglio giocare con una fazione dei regni successori la Bactria non ho visto campagne fatte da italiani sulla Bactria quindi vado a farla io visto solo giocatori stranieri fare campagne sulla Bactria che comunque è una bella fazione ci troviamo nella borderline della campagna di gioco quindi siamo proprio nel confini della mappa di gioco nei confini ad est siamo a ridosso dell'India siamo nell'odierna Afghanistan a sud abbiamo il Pakistan a ovest abbiamo il Mar Caspio e diciamo il regno successore più vicino a noi sono i Seleucidi che conosciamo che hanno tutte le loro satrapie guardiamo i tratti della nostra fazione quindi conflitti tra i successori più 10 al morale per tutte le unità impegnate contro le fazioni elleniche eredità di Alessandro meno 20% alla resistenza dell'occupazione straniera la prosperità battriana più 5 per cento la ricchezza derivata degli edifici del commercio e per le attività produttive questo malus l'ostilità nomade pesante penalità alla diplomazia con tutte le tribù nomadi avversione culturale l'ennelizzazione più 4 alla conversione culturale allora le condizioni di vittoria io ho già dato un'occhiata anche prima e vorrei fare questa qua economica questa qua economica che comprende questi queste regioni di cui Bactria, Gedrosia, Arabia Felis, Bosporus, Media Magna e Asia che sono tutte regioni del Medio Oriente a parte penso la Media Magna che magari si trova un po' più verso la Grecia adesso non ricordo quindi c'è da controllare 65 insediamenti tenere vivo il rapporto con 15 fazioni mantenere il controllo di almeno una di tutte le risorse chiave cioè quindi magari avere tutto il controllo della seta o tutto il controllo della legna queste cose qui terminare un turno con introiti pari almeno a 90.000 talenti ricerca 20 tecnologie civile mantieni 120 unità in tutto ok io direi che ho detto tutto possiamo passare alla campagna quindi iniziamo la nostra campagna sei finalmente libero dall'oppressione dell'impero seleucide ma ora è da occidente che arrivano i pericoli per la tua indipendenza tuttavia le rimanenti satrapie orientali non amano molto la propria fazione dominante e potrebbe essere più prudente attendere che esse dichiarino la propria sovranità prima di cercare di soggiogarli proprio come fece il tuo illustri antenato alessandro ad ogni modo è importante mantenersi in buoni rapporti con la racosia a su fa attenzione all'ascesa della partia nonostante affermi di discendere dall'impero persiano le sue radici risalgono a quelle dei barbari che terrorizzarono la regione per secoli raccogli le tue forze per spingersi verso occidente la patria potrà così rivendicare la gloria dell'impero di alessandro ok quindi congediamo il nostro consigliere dalla voce un po' ambigua allora obiettivo assegnato annuit coeptis da un umile inizio nascono grandi imprese muovi i primi passi e stabilisci una roccaforte dalla quale portare il tuo popolo alla grandezza assumi il controllo di 9 insediamenti che siano di tua proprietà osata o satrapie e alleate militari 2500 la nostra ricompensa in talenti allora andiamo a vedere un attimo l'obiettivo totale attuale volevo vedere se mi diceva in quanti turni devo farlo non lo dice boh ok allora guardiamo un attimo abbiamo quattro insediamenti di cui due città principali due città minori abbiamo due eserciti uno composto da catafratti ellenici per il nostro generale cavalleria leggera per battriana quattro picchieri di leva e un frombogliere orientale mentre l'altro esercito molto più esiguo anch'esso al generale con catafratti ellenici due uomini delle colline battriani e formboglieri qui abbiamo la nostra spia l'ira la nostra vecchia amata lira ok guardiamo un attimo la mappa come dicevo ci troviamo nella borderline nella mappa di gioco quindi siamo totalmente ad est siamo la popolazione più ad est ci troviamo come dicevo nell'odierno afghanistan nelle nostre due regioni si chiamano transoxiane battria qui c'è il mar caspio chiuso non ha nessuna possibilità di commercio con il mediterraneo mentre sud abbiamo l'oceano indiano che invece hanno la possibilità di commerciare all'interno del mar rosso con le altre fazioni che si affacciano su questo mare quindi anche l'egitto potrebbe essere interessante andare a commerciare con loro mentre questa il medio oriente diciamo è tutto in mano ai seleucidi e le sue satrapie ok quindi possiamo chiudere questa pagina andiamo a far partire la nostra tecnologia sia in campo militare e successivamente in campo civile la prima tecnologia che ci sblocca la caserma e l'accampamento e ci dà un meno due dei costi di mantenimento per tutti gli eserciti bene andiamo a vedere la diplomazia allora al momento abbiamo un accordo commerciale già stabilito in precedenza con gli archiosia abbiamo 113 talenti in ingresso siamo amichevoli vediamo di chiedere loro io non vorrei fare delle alleanze al momento voglio vedere come si sviluppa la situazione qua perché ci troviamo veramente con diverse culture quindi dobbiamo stare attenti a come muoverci e muoverci con astuzia se è possibile allora chiediamo solo un transito militare questo potrebbe già tenere comunque morbidi i nostri rapporti ok accettano mentre guardiamo gli aria gli aria sono in guerra con i quidri una fazione che non abbiamo ancora scoperto e sono una satrapia dei seleucidi però come diceva il consigliere non è detto che queste satrapie vogliono restare soggiogate dei seleucidi quindi possiamo aspettare però guardiamo se possiamo fare qualcosa con loro quindi pagamenti accordi o dichiarare una guerra possiamo farlo e noi chiediamo accordo commerciale in modo da avere degli introiti allora la probabilità di successo è alta quindi proviamo a chiedere anche dei soldi che non guasta e accettano molto bene così importiamo piombo e sportiamo seta per un valore di 113 talenti anche con loro i nostri rapporti sono migliorati da neutrali e amichevoli abbiamo anche con i corasmi un accordo commerciale di 89 talenti ogni turno esportiamo solo seta però come dicevo all'inizio loro sono dei nomadi e quindi con loro siamo non amichevoli perché faremo veramente fatica ad avere una diplomazia con loro quindi al momento non saprei cosa potrei chiedergli un patto di non aggressione ce l'abbiamo non penso di chiedere un'alleanza difensiva anche perché sono bellicosi e inaffidabili quindi mi sembra anche inutile poi addirittura è basso il successo quindi lasciamo perdere io al contrario visto che qui ci sono i dai che anche questi sono nomadi ambiziosi in affida e affidabili però vediamo se riusciamo ad avere un accordo commerciale è basso proviamo a offrirgli del denaro sempre basso anche con mille quindi direi di lasciar perdere e dai sono alleate militare con i party io con i party al momento non voglio avere discussioni direi di più di improntare la mia guerra al momento a nord e a sud e lasciare stare questa parte centrale qua che è al momento mi vede insomma abbastanza amichevoli con queste fazioni qui quindi sono anche un po' protetto diciamo quindi guardiamo con i party a se riusciamo a fare un patto di non aggressione accettano bene ok quindi usciamo da qua allora andiamo a vedere i nostri insediamenti questo abbiamo un meno sei all'ordine pubblico zero il cibo questo meno nove l'ordine pubblico e quattro di cibo quindi facciamo entrare il nostro generale in città in modo da abbassare l'ordine pubblico a cinque allora qua direi di espandere la città e fare un tempio un terreno consacrato per l'ordine pubblico bene qui di fare altrettanto facciamo un terreno consacrato anche qui ok aumentiamo il cibo 7 di cibo e aumentiamo anche il mercato del grano così da andare via in corrispondenza con la produzione di grano ok quindi adesso i soldi sono questi li abbiamo spesi direi di andare a ad acquistare delle nuove truppe poi dove rivolgere il nostro il nostro primo sguardo allora buona cosa magari potrebbe essere andare qui dove che città ci sono c'è questa poi c'è un'altra qua qui non c'è più niente diciamo di iniziare a muovere mentre qua a sud anche qua a sud potrebbe essere interessante andare subito a sud anche se siamo un po' ostacolati dagli archiosea nel senso che potrebbero arrivare prima loro di noi e conquistare quell'insediamento laggiù intanto muoviamo la nostra spia e andiamo a dare un'occhiata qua vabbè c'è l'insediamento degli aria muoviamo qua la nostra spia poi dai abbiamo visto che sono alleati con i party attiviamo i servizi segreti della nostra spia ok direi di passare il turno no non possiamo passare il turno mi sono dimenticato che possiamo emanare un editto quindi tra questi farei questo del pane circense quindi più pane quindi quattro di cibo e più ordine pubblico per via delle festività diciamo indiciamo le feste i giochi circensi nelle nostre città per avere più ordine pubblico quindi adesso possiamo passare il turno salvo la partita ok passiamo il turno allora gli aria ci chiedono un patto di non agressione ci offrono dei soldi ok accettiamo teniamo buoni rapporti con loro mio masso e i miei tanti mostro no 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 no